benvenuti in questo nuovo video dove voglio mostrarvi una serie di foto della sandera sandero steppe modificate alcune sono personalizzate in maniera sobria altri invece la personalizzazione va un po sul tamarro magari avete intenzione di modificare o personalizzare la vostra sandero steppe e forse questo video vi potrà ispirare buona visione grazie a tutti grazie a tutti se avete apprezzato il video vi chiedo di cliccare sul like e mi raccomando lasciate qualche commento sotto al video per farmi sapere cosa ne pensate per chi non è ancora iscritto al canale lo può fare cliccando su pulsante iscritti ci vediamo al prossimo video ciao a tutti